Dopo la brutta figura prenatalizia dell'aeroporto londinese di Gatwick, trovatosi impreparato davanti al boicottaggio di uno più misteriosi piloti di droni che hanno paralizzato lo scalo per tre giorni, il governo britannico corre ai ripari. La zona interdetta a questi dispositivi verrà infatti estesa da 1 a 5 chilometri intorno agli aeroporti. 140.000 persone avevano subito disagi fra il 19 e il 21 dicembre per le continue chiusure di Gatwick a seguito dell'avvistamento di droni. Una coppia era stata arrestata e poi rilasciata, da allora il silenzio è calato sull'indagine. A tentare la sicurezza del traffico aereo comporta fino a 5 anni di prigione, Heathrow e Gatwick hanno annunciato massicci investimenti per migliorare le misure di difesa antidroni.